Preparative per il mio alberello di natale sono tanti anni che non lo facevo quest'anno ho voluto farlo lo voglio dedicar mia madre anche alla realizzazione di questo libro che sta avendo anche delle critiche positive ma ancora c'è tanto da fare chiaramente perché siamo all'inizio si spera di poter fare conoscere le nostre tradizioni in tutto il mondo perché era una cosa che volevo fare da meno vent'anni e quindi sono riuscito a realizzare una cosa che avevo in testa da tanto tempo speriamo che vada per il meglio io ho messo tutta la mia abilità la mia capacità anche fotografica e tecnica per poterlo realizzare fermo restando che siamo su una auto pubblicazione quindi abbiamo fatto tutto da soli quindi nella sua possibilità abbiamo fatto il massimo che potevamo ecco quello che vedete sono delle potature di di una pianta che si chiama lentisco una cosa di genere che è presente nella zona del di prato valerio in quella zona la è una potatura chiaramente non sono radici le potature di tanto in tanto vanno fatte per protocollo quindi ho deciso di utilizzare questa pianta verde che c'è un buon aroma che si mantiene anzi forse meglio del pino perché il pino tente a fare un po di sporcizia quindi adesso abbiamo fatto il basamento l'abbiamo creato si potrebbe dire questo alberello così adesso si mettano tutte le cose insomma state facendo a voi tutti una buona serata